Loquendisti, seguitori, e i tardi merda, e patrioti americani, quest'oggi mi sono svegliato, e poi, sono andato al mio pc, e ho contattato Loquendo Italia, ordinandogli immediatamente di tornare. Ero geloso. Perché lo stronzo aveva fatto un video su Putin e non su di me. Cos'ha la sua fredda Russia? Che la mia bellissima e libera nazione non ha? Già, loro hanno Natalia Poklonskaya. Mi ha quindi detto, che purtroppo ha avuto dei problemi, ha perso tutto il materiale, e ha dovuto mettere, quella merda cagata, di Windows 8. Dio era dai tempi di Windows 95, che non vestemmiavo così, porca puttana ladra, troia. Avevo installato Sony Vegas, provavo a prendere il video e mi crashava, e allora ho messo Premiere. Ero felicissimo anch'io quando mi ha detto così, ma poi... mi ha detto che gli crashava Textalood. E quindi giù altre madonne. Porca troia. Ha dovuto mettere un programmino di merda. Che non fa neanche bene la voce dell'omino. Non so come si usa Premiere. Infatti la mia voce è mixata pure male. Ma finalmente stanno arrivando. Buone notizie. Dai, divalo quello, cazzo! Perché ti citi da solo? Ah boh, perché cazzo? Ma la cosa che più mi ha fatto rizzare il cazzo è stata quando mi ha detto che... Finalmente... Gli hanno levato... Tutti i fottuti avvertimenti. Adesso il canale non è più a rischio chiusura. E le acque si sono calmate. Vorrà dire che avremo più video suoi. Non saprei... Quando quel figlio di puttana sembra che dice di tornare... Poi sparisce per altri due mesi. Non lo sopporto. Ma comunque adesso ha annunciato una diretta. Sì perché con gli avvertimenti non te le fanno fare. Che palle sto YouTube. Comunque dicevo che ha organizzato questa diretta per domani 6 giugno... Alle 9 di sera. Vuole parlare faccia a faccia con tutti voi così saremo tutti insieme artefici della rinascita. Tratteremo gli argomenti dei prossimi video, chiacchiereremo e cazzeggeremo tutti insieme. Faccia incazzosa. Mi esce bene vero? Comunque vi aspetto. Lascio il link della diretta in descrizione. Venite in tanti a vedere Loquendo Italia, se no vi ergastolo tutti quanti. E sappiate che io ho molto più potere dell'omino. A domani. Grazie come sempre per il vostro supporto. Vi voglio bene ragazzi. Grazie. 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 Grazie.